Salvatore Mignone è stato ucciso mentre rientrava in carcere, aveva 37 anni ed è stato ammazzato da due sicari davanti all'ingresso del carcere di Secondigliano a Napoli. L'uomo che era in semilibertà e stava rientrando per la notte in carcere, appena sceso dalla sua macchina in una Fiat Multiple, è stato raggiunto da due sicari che hanno esploso diversi colpi di pistola. I killer in sella di una moto e con il volto coperto dai caschi si sono allontanati precipitosamente. Mignone, denunciato in passato per reati contro il patrimonio, era residente a Melito, comune che si trova a breve distanza dal carcere. Mignone è stato soccorso e portato all'ospedale San Giovanni Bosco, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono stati gli stessi agenti di guardia al portone a dare l'allarme. Sempre a Secondigliano, il 29 dicembre, era stato ucciso mentre era a bordo della sua auto Antonio Pitirollo, 41 anni, pochi giorni prima a cadere sotto i colpi dei killer. Era stato Carmine Guerriero, 26 anni, soprannominato Ronaldo, ucciso il 23 dicembre, sempre nel quartiere a ridosso di Scampia. Quello di Mignone è stato il terzo omicidio in meno di due settimane nella zona. Il timore di una nuova faida a nord di Napoli è più che concreto.